Ora è ufficiale, Conte è il nuovo allenatore del Napoli. È arrivata la firma sul contratto, i tifosi partenopei, da quello che abbiamo visto, sono molto contenti di questo allenatore e Conte che ha accettato di allenare il Napoli nonostante la prossima stagione non faccia le coppe. Quindi insomma per il Napoli un colpo ancora più pesante quello che ha messo a segno e sappiamo bene che Conte è molto bravo nel motivare i giocatori che ha a sua disposizione e sono partiti già i primi nomi dei probabili acquisti del Napoli. Vedremo insomma quali saranno i nuovi giocatori che entreranno a far parte di questa squadra per la prossima stagione. Scrivi nei commenti se sei contento di Conte a Napoli. Ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video in uscita e noi ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!